Quarantesima giornata del campionato di Serie B alle ore 15 al Picchi in campo Livorno contro Perugia. Vediamo le scelte di Pierpaolo Bisoli in Porta Rosati, difesa 4 con Molina, Mancini, Volta e Delprete. A centrocampo Portic e Zebli, Drolet, Guberti e Parigini giocheranno alle spalle di Rodrigo Aguirre. Grazie a tutti.